Ospite illustre dell'Ara Day, dell'Ara 21 Fansteam qua, l'ho creato Werther Pedrazi, una giornata come questa, una giornata di festa, vedere tanti ragazzi che giocano a basket cercando di emulare un giocatore che sta calcando i campi più importanti. Ma due cose, intanto è bello partecipare perché è come un'immessione nelle chiare dolci fresche acque e alla sorgente della pallacanestro, della passione, della spontaneità. Poi la seconda cosa bella è vedere sempre una questione di radici, il paese dove Pietro è nato e cresciuto ha mosso i primi passi, che si affezione, che è orgoglioso di uno dei suoi ragazzi che è diventato un campione. Voglio sottolineare che è diventato un campione senza molti aiuti, Pietro ha scalato una per uno, forse emulando il papà che voi non vedete perché è dietro alle spalle della ripresa, appassionato di montagna, scalando tutte le tappe con fatica, sacrificio e per merito proprio. È una bella giornata e non c'è niente da dire, è una bella festa che Pietro Radori si merita al suo paese. Grazie mille, Bert. Grazie a voi, grazie a voi.